E' gioia mia! Buongiorno signora! Mia mamma, come state? Tutto bene? Buongiorno! Buongiorno, come va? Mi ha piaciuto vedervi tutto. Posso chiedere chi vuoi? Forza! Forza, forza! No, eh... Vedi, quante volte siamo venuti a portare in questo posto? Sei sempre tu? Ce l'hanno sempre tutti con te? Io non lo so com'è! Un giorno la faremo fuori. Solo tu? Ce l'hanno sempre tutti con te! Basta che mi fanno fuori insieme a te, ok, ci sto! Buongiorno! Bene, tutto a posto, sì, grazie! Solo Grillo ce l'ha con me! Noi siamo a 407! Sente? No, eccolo! Noi sappiamo lei! Buongiorno! Signora, signora, la faccia la telecamera! Buongiorno! 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 Mamma, tu devi andare dalla signora, io vado invece. Aspetti che c'è invece quello mio. E poi c'è anche quello di mia moglie, ma poi... ...dai dopo... 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 Eh... Prego signora... No, questo, questo. Posso? Posso lasciare queste cose qua? Grazie. Ma se c'è ragazzo. Un poco! Quando... professore, bella stacca di chiri verso di noi che facciamo questa... Perfetto. Posso? Sì, sì. Posso? No, 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 no! Ecco, andiamoci di qua. Un attimo, ecco. Una scheda finca io la possiamo dare per il Presidente. Sei chiusa senza... Dimmi che devo fare. Senza lasciarla. No, la lascia! No, no, no! Senza avvicinata poi si giri qua. Un attimo. Di qua? Di nuovo. Di nuovo. Si giri di qua. Un attimo. Un attimo. No. Eccoci, io sono qua. che aspetta. Per me? Ok. Va bene. Grazie. Grazie a voi. Grazie di tutto. Buon lavoro. A presto. A presto. Ma a che personale siamo? A presto. A presto. A presto. A presto.